Questi incontri sono utilissimi proprio per il fatto che abbiamo la possibilità di confrontarci direttamente tra di noi, i colleghi, ma soprattutto con i chirurghi, in un ambiente molto più familiare, molto meno impegnativo di un congresso dove magari non riusciamo a definire un po' tutto e ad andare un po' nel dettaglio e quindi ci permettono poi di portare a casa delle informazioni che sono utili già il giorno dopo con i nostri pazienti. Il futuro di questa associazione secondo me è sempre più importante, però è vero il fatto che catalizza le nuove leve, i nuovi terapisti che escono e arrivano al panorama della fisioterapia in un ambiente, soprattutto in un campo, in un settore, quello della riabilitazione della mano che non è molto ancora conosciuto e quindi l'associazione fa da faro ed è importantissima proprio per dare una guida e una spinta. Grazie a tutti!